C'è un detto nel cibo occidentale. Chiamato si mangia prima con gli occhi. Significa che gli occhi fanno la prima prova prima che il cibo entri in bocca. Se il piatto si vende bene e stuzzica l'appetito quando viene servito. Il piatto è a metà strada verso il successo. 1. La scelta del piatto. Il piatto. Come struttura chiave di base nelle tecniche di placatura. Determina la presentazione e la direzione artistica del piatto. 2. Il colore degli ingredienti. Il contrasto e la stratificazione dei colori tra gli ingredienti è particolarmente importante quando si impiatta. In generale. Il verde dà alle persone una sensazione di freschezza. Freschezza e relax. Il rosso è naturalmente un simbolo di passione ed eccitazione. Il nero è il rappresentante della stabilità e dell'eleganza. Il blu è un colore inibitore naturale. E se non è usato correttamente. L'aspetto del piatto può far mancare l'appetito ai clienti. Un piatto di solito è più appariscente quando contiene due colori neutri e due o tre colori brillanti. Un esempio tipico di utilizzo di combinazioni di colori è quando un piatto contiene una varietà di verdure. Di solito verdure verdi. Completate da altre forme ritagliate come ravanelli rossi. Melanzane viola e peperoni gialli. 3. La consistenza e il materiale degli ingredienti. Lo stesso piatto con texture e materiali diversi non solo influenzerà l'aspetto del piatto. Ma anche il gusto dei commensali. In generale. La consistenza e il materiale degli ingredienti sono abbinati da quelli morbidi a quelli duri. Da quelli ruvidi a quelli lisci. Da quelli secchi a quelli appiccicosi. Eccetera. Le consistenze e i materiali degli ingredienti sono selezionati direttamente da quelli naturali o modificati da una post elaborazione che include diversi metodi di cottura per ottenere la struttura desiderata. 4. Il riflettore del piatto. Il punto focale del piatto è il punto centrale del piatto. E questo punto non deve necessariamente essere al centro del piatto. Le voci principali del menù dovrebbero essere collocate in modo prominente nell'arredamento. In modo che gli ospiti non debbano riposizionare il loro cibo per mangiare. È importante notare che gli ingredienti che sono impilati in alto o sono di grandi dimensioni dovrebbero essere posizionati nella metà posteriore del piatto il più possibile. E il punto più basso della pila non dovrebbe essere il centro del piatto quando si impila il cibo. 5. Ordine del cibo. Il cibo deve essere disposto in modo ordinato e pulito entro i confini del piatto. E anche compatto entro una certa proporzione del piatto. 6. Selezione di contorni. I contorni sono una delle cose più importanti nell'impiattamento della cucina occidentale. Non solo per migliorare l'aspetto ma anche per esaltare il sapore dei piatti. I seguenti punti sono raccomandati quando si scelgono le decorazioni. 1. Non mettere dei contorni non commestibili. 2. I contorni devono essere compatibili con il piatto. 3. Il sapore dei contorni non dovrebbe sopraffare il principale. Cioè. Generalmente non scegliere troppe guarnizioni di sapore. 4. Scegliere il giusto volume di contorno. Non troppo grande. I suddetti elementi di placatura del cibo occidentale si riassumono nei seguenti consigli. 1. Scegliere le stoviglie in base alle caratteristiche del cibo. 2. Piatti grandi. Facili da modellare lo stile dei piatti. 3. Le consistenze e i materiali degli alimenti seguono generalmente morbido vs. Duro. Ruvido vs. Liscio. Secco vs. Appiccicoso. Eccetera. 4. Il cibo deve essere posizionato in modo ordinato e non oltre il bordo del piatto. 5. Non sovraccaricare con contenuti aggiuntivi. 6. Il corpo principale del cibo per evidenziare. Evitando il rumore del principale. 7. Prestare attenzione all'igiene alimentare. 3 punte di placatura. 1. Metodo di impilamento. 1. Met